aiaiai paloma il tornantino non lo vedo proprio bello no che cado giù infatti adesso scendo giù vada via il cu vita aspettami aspettatemi aiutatemi nel boschetto umidino dove metto il pistolino è vero nel boschetto umidino dove metto il pistolino peggio peggio di quella che siamo andati l'altra volta ma dove ti abbiamo portato esattato 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 Grazie a tutti.